Il cavallo chiude prontamente, molto bene. Anche Rachele spinge il suo cavallo nei rimpiotti. Bellissimo spin, peccato con una penalità. Bene l'uscita nella retromarcia. Ora devi chiamare il suo cavallo per stare attenzione a non effettuare la doppia battuta sul ponte. Bellissima l'uscita sul pole. E facciamo un applauso anche a Rachele che conclude il suo percorso in un minuto 24 e 30 minuti.